Presidente, cosa prevede per la sentenza? Questo contesto finalmente è finito, che ci vuole dire? Che vuole dalla sentenza! E lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 60 giorni. L'udienza è tolta.